Un bombardamento dalla flotta più grande che la marina abbia mai assemblato. Cento granate al minuto, fino all'arista. Santo Dio. Signor Lincoln, io li odio tutti. Davvero, sono un uomo pieno di pregiudizi. Il congresso non potrà mai dichiarare uguali coloro che Dio ha creato disuguali. Cercherai di far passare l'emendamento per abolire la schiavitù. Nessuno è mai stato amato tanto dal popolo. Non sprecare questo potere. Il prossimo primo febbraio io intendo firmare il tredicesimo emendamento. Questa battaglia è fino alla morte. Quei suddisti vengono con una vera proposta di pace. Abolire la schiavitù determinerà il destino dei milioni di individui adesso in catene e dei milioni non ancora nati. O l'emendamento o la pace con i confederati. Non li avrete entrambi. La schiavitù, signore, è finita. Anche se tutti i nostri repubblicani lo votassero, ci mancherebbero comunque 20 voti. Solo 20. La schiavitù è l'unico insulto alla legge naturale. Perfino voi, inutile e indegno, dovreste essere trattato ugualmente di fronte alla legge. Questi voti devono essere trovati. Gli onorevoli costano poco. Con duemila verdoni comprate ciò che vi serve. Ma non possiamo comprare il voto. Vedi cosa puoi fare? Pensate in quanti moriranno se non tratterete la pace. Questa guerra non finirà finché non ci curiamo dalla schiavitù. E quest'emendamento è la cura. Ci servono due sì. Andate fuori e trovateli. Ma come? Io sono il presidente degli Stati Uniti d'America, investito di un potere immenso. Voi mi procurerete i voti. Scendete a un compromesso o rischierete tutto. La guerra sarà finita tra un mese. È garantito che perderemo ogni cosa. Uccilatemi, io voto sì! Non toccate la Costituzione. Oggi noi voteremo. No, voi insultate Dio! Sì! Traditore! Traditore!